Buonasera dallo store AMEN di Corso Trieste a Caserta Buonasera, ciao, come ti chiami? Lorenza di Rausa Buonasera Lorenza, come procede la serata? Direi abbastanza bene, c'è stata una grande afferenza di persone, quindi direi più che bene Lorenza, cosa ne pensi di questo brand AMEN? È un marchio molto prestigioso e molto, molto raffinato E viene comunque accostato da, diciamo, quasi gran parte delle persone di varie fasce d'età E poi una location bellissima Infatti è al centro di Caserta, siamo sul Corso Trieste Poi per quanto riguarda questo brand, dobbiamo dire che comunque è accessibile a tutte le fasce di persone Perché come sono i prezzi? Mario no, da minimo 10 euro Quindi è molto, molto accessibile, diciamo Perfetto, ti ringraziamo tanto Lorenza Grazie a voi Grazie, buona serata Grazie a voi 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 Buonasera da Corso Trieste, dall'inaugurazione della nuova attività AMEN Abbiamo qui Domenico D'Anna Buonasera Domenico Buonasera, salve a tutti Ciao Domenico Com'è andata la serata? Come ti aspettavi? Sì, assolutamente sì Un colombio di persone che hanno intrapreso tutto il nostro risponso della serata Per far sì che tutto sia diciamo alla glamour per tutti Alla portata di tutti Tutte le persone sono a Corso Abbiamo omaggiato con una rosa, dei palloncini, con un po' di prosecco, un po' di buffet aperitivo Per far sì che stessero bene in questa serata calda molto particolare e originale Domenico, come va la scelta di questo brand AMEN? Perché noi crediamo in loro È un brand che è iniziato partendo con un sacro e profano E è investito in marketing tutta la loro forza Adesso sono un'azienda a 360 gradi con prodotti dalla minigioelleria al sacro E sono un brand che investono molto in comunicazione Canale 5, reti mediaset, pubblicità sui social Hanno testimonial molto importanti Quindi siamo molto contenti di loro Io credo nel loro, loro credono in me Quindi abbiamo sposato questo progetto insieme È un corso comunque di una provincia abbastanza importante Vorrei ricordare un'ultima cosa Che comunque AMEN non è un negozio monobrand Anzi? Abbiamo la fortuna di aver creato un monomarca con un multibrand all'interno Con Bering, di Cento Milano, Aniae e Doodle Che sono marchi comunque molto veloci, molto freschi E riescono a dare un'alternativa al gusto AMEN Nonostante sia un prodotto a 360 gradi Vogliamo ricordare la posizione dell'attività? Dove si trova? Una posizione centrale di caserta? Siamo in una posizione ottimale Corso 3,607 Altezza Benetton di Abbellezza Quasi verso il via Mazzini, lato destro E facciamo in modo che tutti voi che passeggiate Ci possiate vedere e venire a trovare Anche per un solo caffè Grazie mille Domenico Buona serata Grazie a voi, buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti